Buongiorno a tutti, io sono Erika e oggi vi insegnerò a fare queste decorazioni natalizie semplici e fatte con materiali di recupero. L'occorrente è molto semplice, abbiamo bisogno di un gomitolo, potete utilizzare il gomitolo che volete, ad esempio utilizzo questo gomitolo che è frutto di un precedente lavoro, insomma è lo scarto di un precedente lavoro ed è un gomitolo di filato sintetico, potete utilizzare tutti i colori che volete in base a quelli che avete in casa. Dopodiché vi serve un uncinetto che deve essere, insomma, che deve essere compatibile con il formato di filo, in questo caso io utilizzo un numero 7 e delle forbicine. Poi, se volete, io ho decorato le palline con dei glitter che trovate in qualsiasi cartoleria, però non è obbligatorio, insomma. Farle è molto semplice, si utilizzano semplicemente due maglie, anzi tre, catenella, maglia bassa e maglia bassissima. Dovete iniziare il primo giro con 5 catenelle chiuse insieme, quindi fate due giri, prendete il filo con pollice e indice, fate due giri attorno alle due dita, passate sotto al primo filo, tirate sopra il filo sottostante e tirate la codina. In questo modo avete il vostro nodino, dopodiché fate le 5 catenelle. Per fare le catenelle è molto semplice, prendete il filo con il mignolo, l'anulare e il medio, fate passare il filo sopra l'indice e fate passare sotto l'uncinetto. Inserite il filo all'interno del nodino che avete e avete fatto la vostra prima catenella, ne dobbiamo fare 5. poi chiudiamo il nostro cerchio con una maglia bassissima, quindi entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto e chiudiamo con l'ultima catenella, insomma facciamo passare il filo all'interno dell'ultima catenella, abbiamo il nostro primo giro, per fare il secondo giro lo inizieremo come sempre con una catenella e poi faremo all'interno di questo anellino che si è venuto a creare, 10 maglie basse, le maglie basse sono molto semplici, dovete entrare all'interno del foro, prendere il filo sull'uncinetto, in questo modo avrete le due asoline sopra, prendere un'altra volta il filo e chiudere la maglia, dobbiamo farne dieci. ops come potete vedere io lavoro insieme la codina cioè la inserisco all'interno delle maglie di modo che poi adesso, arrivata a questo punto cioè alla fine delle 10 maglie basse taglio l'eccedenza e non si vedrà più allora, dopo aver fatto le 10 maglie basse entro nella prima e faccio una maglia bassissima cioè, entro nella prima prendo il filo sull'uncinetto e lo faccio passare all'interno della solina il primo giro è terminato adesso facciamo la catenella del secondo giro e faremo un aumento un aumento sì e un aumento no in base alle maglie sottostanti cioè nella prima maglia bassa faremo un aumento in quella successiva non lo faremo quindi rimarrà la maglia singola aumento maglia singola se per caso vi perdete insomma, dove avete fatto l'aumento e dove no basta allargare il lavoro e riuscirete subito scusatemi riuscirete subito a capire riuscirete subito a capire dove avete fatto l'aumento e dove no ok, siamo arrivati alla fine del giro entriamo nel primo aumento nella prima maglia lavorata e facciamo nuovamente e facciamo nuovamente una maglia bassissima rifacciamo la nostra catenella con la quale inizieremo tutti i giri di lavorazione e in questo caso in questo terzo giro faremo un aumento sì e due maglie singole quindi nella prima maglia bassa sottostante faremo un aumento mentre nelle due successive faremo la maglia singola e andremo avanti così fino alla fine del giro quindi due maglie singole e un aumento se per caso avete paura di perdervi la prima maglia che avete fatto potete mettere un marca punti come ad esempio questo qua però insomma si vede abbastanza ok, chiudiamo anche questo giro con una maglia bassissima e vedete che la nostra pallina sta prendendo forma adesso facciamo la nostra solita catenella facciamo il nostro primo aumento nella prima maglia utile sottostante dopodiché facciamo 3 maglie singole nelle 3 maglie singole sottostanti facciamo il nostro aumento nella quarta maglia e poi di nuovo e poi di nuovo le 3 maglie singole aumento e 3 maglie singole chiudiamo il giro con una maglia bassissima e adesso io in questo caso farò una pallina piccolina visto che di grandi ne ho già molto però se voi vorrete andare avanti si procede sempre allo stesso modo se in questo caso abbia fatto un aumento e 3 maglie singole in quello successivo faremo un aumento e 4 maglie singole in quello dopo ancora un aumento e 5 maglie singole in quello dopo ancora un aumento e 6 maglie singole e andate avanti così fino a quando voi vorrete allargare il vostro cerchio in questo caso invece io lo faccio appunto come vi ho detto piccolina e inizierò questo nuovo giro facendo l'asola per appenderla farò 10 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e chiuderò il gancetto insomma l'asola per appenderla entrando nella maglia bassa sottostante facendo una maglia bassissima poi per rendere un pochino più carina la nostra pallina farò un giro di maglie bassissime tutto intorno insomma questo serve semplicemente per rifinire meglio la nostra pallina grazie a tutti ok adesso tiriamo il filo e tagliamo la codina che si verrà a creare possiamo nasconderla facendola passare all'interno delle maglie bassissime che abbiamo appena realizzato quindi giriamo il lavoro prendiamo un filo di ogni singola maglia bassissima sotto sottostante e nascondiamo la nostra codina ok l'eccedenza del filo possiamo tagliarla e abbiamo realizzato la nostra pallina in questo caso come vi dicevo prima potete o lasciarla così oppure decorarla con dello smalto con dei glitter oppure come ho fatto io ho comprato questi glitter in cartoleria e li ho passati sopra con un pennellino però potete usare se vi avanza dello smalto glitterato potete passare dello smalto glitterato dello smalto trasparente per renderla più rigida insomma potete decorarla come vi piace a voi adesso vi faccio vedere le palline come queste insomma come quella che abbiamo fatto adesso ma come le altre che ho fatto nei giorni scorsi appese sull'albero ecco qua il mio albero e come potete vedere le palline sono appese all'albero io le ho fatte anche di altre forme oltre che rotonde le ho fatte a fiocco di neve aspettate come questa oppure a cuoricino in questo caso il cuoricino l'ho riempito di ovatta grazie per aver guardato questo video ci vediamo al prossimo grazie a tutti